Pronto, ci sei al treno? Uno, due, tre! Ce n'era bisogno ed è quello che stiamo facendo in questi anni in ogni area verde della nostra città. La stiamo attrezzando con giochi nuovi, la stiamo mettendo più in sicurezza, con più luce. E qui abbiamo creato anche un percorso, un lavoro che ha fatto l'assessore Sortino insieme a Sone Martinelli, all'ASPEF. È un percorso bello perché l'abbiamo collegato all'RSA, gestite dall'ASPEF e direttamente i pazienti, gli ospiti possono all'RSA con un percorso protetto, arrivare nel giardino, trovare le panchine, fermarsi e condividere uno spazio completamente rinnovato insieme a tutti. Credo sia molto bello anche questo perché dà l'idea di come noi intendiamo anche le RSA nostre, comunali, spazi nei quali la socialità non deve mai venire meno e le persone non si devono sentire sole. Abbiamo investito 85 mila euro per questo intervento e sono soldi ben spesi e sono sicuro che sarà molto apprezzato da tutti i residenti che lo chiedevano da molto tempo. E si va avanti perché tutti i quartieri, in tutte le zone del centro dobbiamo sistemarle tutte. La botte rimane, l'assessore Sortino con gli scout della Gesci ha condiviso un percorso, un progetto, le loro spese la recupereranno. Io sono anche molto contento di questo anche perché ho fatto gli scout qui nel Mantua 5, la botte per me era un simbolo molto bello dove venire e quindi sono contento che sia riusciti a condividere anche un progetto per mantenerla, recuperarla perché oggi non è in sicurezza e offrirà attività, servizi ricreativi, socioeducativi e cura della Gesci e Scout. Ci siamo seduti intorno a un tavolo e abbiamo definito insieme ai cittadini e alle associazioni che vivono questa realtà di quartiere che cosa desideravano e come raggiungere l'obiettivo che auspicavamo. Per cui a breve si concluderanno anche le ultime parti del parco e questo spazio ritornerà completamente a essere vissuto dai cittadini in piena sicurezza e soprattutto con una cornice molto più bella di quella di prima. Abbiamo un'area giochi completamente nuova, abbiamo l'illuminazione, anche questa qua implementata e nuova e poi abbiamo anche uno sgambatoio per i cani, quindi da un progetto nato sulle esigenze, tarato sulle esigenze dell'ASPE in realtà poi è diventato un progetto di qualificazione completa dell'area, con un intervento di 85 mila euro. Oggi l'inauguriamo, un'area giochi molto bella, nuova e ovviamente è ben recuperato, uno spazio verde importante per i cittadini.